Dal punto di vista economico sto conducendo una campagna elettorale estremamente sobria. Non sto buttando soldi, anche perché non ho soldi da buttare, e se anche ne avessi non li sprecherei in questo modo. Vi dico le cifre, sono una persona molto semplice, una persona che dice tutto, che non ha segreti. Tutti sanno il mio numero, 339-240-4240, tutti sanno dove abito, via Pupino 8, quarto piano. Tutti devono sapere anche quanto ho spesso. Ho spesso circa 2.000 euro, non di più come manifesti, e poi ho spesso 300 euro circa di volantini. Quindi parliamo di una campagna elettorale in cui non ho superato i 2.400 euro. Quando però poi camminiamo noi tarantini per strada, assistiamo a certe spese megagalattiche, faraoniche. Siamo in Viale Magna Grecia, vedete questa immagine dell'ex sindaco Melucci. Guardate, sembra di essere nei paesi sudamericani in cui ci sono le immagini dei leader massimi. Sembrano, non lo so, le immagini che c'erano una volta di Pinochet, nei vari paesi dove ci sono dei leader di Fidel Castro, non so, di Erdogan. Quindi vedete, ecco, qui abbiamo Melucci. Mi domando, quanto sta spendendo Melucci? E vi do subito la risposta detta da lui, non da me. Ascoltate questo breve dialogo che ho avuto con lui proprio sulle spese elettorali, sulle sue spese elettorali. Una campagna elettorale ricchissima, sontuosissima la sua, lecita. Tutti i sei per tre, chi te li paga lo Spirito Santo? No, li paghiamo noi, li paghiamo io. Così ricco, sì. Non fare relazioni. No, 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 no. Anche tu hai fatti tanti, complimenti. Io sai quanto ho speso? Sai quanto ho speso? 1.500 euro. Tu quanto hai speso? No, perché siamo là, siamo là. Quel manifesto in Viale Magna Grecia, quanto hai speso? Sono sgradevoli. No, 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 è una domanda. Parliamo della città. Io sto parlando di cose, è lecito. Io sto parlando di cose, le tue spese sono lecite. Tutto, e possiamo dire quanto hai speso? Io ho detto 1.500 euro, tu quanto hai speso? Sono così che riguardano la sfera di ognuno. Io 1.500, puoi dirlo? Non mi ricordo neanche quanto l'abbiamo accumulato. Forse così tanto. Bene, anzi male. Dice che sono soldi tutti suoi, che nessuno lo ha finanziato, ok. Dice che praticamente ha speso quanto me. È una bugia, perché non è possibile aver riempito la città di centinaia e di centinaia di 6x3, di avere appunto un manifesto del genere, di avere una quantità enorme di manifesti in città, di avere un comitato in via di Palma che costa proprio, basta fare un'indagine di mercato, quanto un occhio della testa. In ogni caso Melucci non mi può dire che ha speso quanto me. Perché se io ho detto che ho speso 2.000, 2.500 euro, 2.000 euro di manifesti, certamente, certamente, già questo manifesto chissà di quante volte triplica o quadruplica quelle cifre che io ho speso. Ma al di là di questo, proprio la complessità della spesa di Melucci. e lui stesso ha detto che sono soldi tutti suoi e che quindi non ha fatto ricorso a finanziatori esterni. Per carità, chiariamo, io non sto facendo nessuna allusione alle spese di Melucci, per l'amor del cielo. Non voglio dubitare, sono tutte operazioni lecite, per l'amor del cielo. Però Melucci non ci può prendere per i fondelli, perché dire che ha speso quanto me, che ho speso 2.000 euro, è una falsità raccontata ai tarantini. Poi, che siano soldi suoi, che siano soldi di altri, non mi interessa. Ma io dico, è necessario, per far vedere quello che si è fatto, spendere cifre mostruose, mostruose cittadini? Questo per Melucci. Poi vi faremo vedere in un altro servizio anche le altrettanto spese enormi di Musillo. Quindi ci sarà la parcondiccio, le spese faraoniche di Melucci e quelle di, e altrettanto faraoniche di Musillo. Però vedere una gigantografia del genere davvero, peraltro illuminata, quindi è pure la sera, la sera c'è il buio e cosa si fa? Si illumina l'immagine di Melucci. Beh, io dico, cittadini, dovete riflettere, dovete riflettere. Luigi Abate, che combatte da 21 anni contro il sistema e spende 2.400-2.500 euro, il signor Melucci, che in quattro anni e mezzo dice di aver seminato la rinascita, ma ha seminato solo il nulla, il degrado, le favole, Melucci che dice fatto, fatto, fatto e mette il timbro e invece non ha fatto nulla, annuncia per realizzate, opere che sono solo annunciate, spende Melucci queste cifre. Scegliete allora, con cittadini di Taranto, tra l'ex sindaco Melucci, che ha raccontato di aver seminato la rinascita, invece ha seminato soltanto il degrado, ha seminato le sue favole nel centro e nelle periferie, dichiarando, annunciando per fatte, per realizzate opere che sono state solo annunciate. Melucci che parla di aver sfidato la grande industria, l'Ilva, e Melucci che ha fatto appena una ordinanza, peraltro debolissima, rispetto a centinaia, 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 per non dire migliaia, di sforamenti, appunto, di emissioni inquinanti, quando avrebbe dovuto fare altrettante ordinanze. Beh, questo è Melucci, Melucci che sta spendendo queste cifre stratosferiche, oppure il sottoscritto Luigi Abate, che per 21 anni ha difeso Taranto, rimettendo, perdendo il posto di lavoro, nel 2014, lavoravo a Bluestar TV per aver difeso la vita dei tarantini contro l'Ilva assassina per difendere la vita dei bambini di Taranto. Per 21 anni ho denunciato l'invivibilità urbana, ho denunciato il malaffare pubblico e privato e sto spendendo davvero poco, perché la mia vita, quello che io ho fatto, non ha bisogno di essere trasformato in manifesti e in slogan. Per 21 anni, per Taranto, in 21 anni ho sempre lottato. Non è uno slogan, è la mia storia, è la mia vita. Scegliete ora Tarantini. Scegliete ora Tarantini. Scegliete ora Tarantini. Scegliete ora Tarantini.